Allora, la risposta la diamo oggi. È chiaro che tutto avviene sotto la spinta del Ministro Luigi Di Maio, che attraverso la rappresentanza italiana all'ONU, perché è chiaro che bisogna dire le vie diplomatiche, ha inviato una lettera al Direttore Generale dell'OMS. Leggo le parti più importanti. Allora, gentile Direttore Generale, la Procura ha richiesto a un membro del personale dell'OMS e ad alcuni esperti dell'OMS di presentarsi come persone informate sui fatti nel contesto di un'indagine condotta dalla Procura di Bergamo. Siccome l'organizzazione si è basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1947, che cosa chiedono i nostri diplomatici attraverso la spinta evidente di Di Maio? Vi chiediamo di considerare, nello spirito di questa Convenzione, la possibilità di permettere ai funzionari e ai esperti di consentire alla richiesta del Procuratore, in questo caso Chiappani, di essere sentiti come persone informate sui fatti. Quindi è un passo importantissimo avanti in questo che sta diventando un caso internazionale. Però Di Maio prende posizione e dice dovete in base alla Convenzione del 1947 dare la possibilità ai vostri uomini di andare dal nostro Procuratore.